Il faccendiere canicattinese Faustino Giacchetto rimane agli arresti domiciliari, mentre per l'ex assessore regionale agrigentino Luigi Gentile ci sarà da rivedere l'ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Palermo aveva confermato l'arresto dopo lo scandalo della vicenda giudiziaria che ha travolto l'ende di formazione Ciapi. Decisione arrivate dalla sesta sezione della Cassazione. Giacchetto è l'unico delle 22 persone arrestate e indagate nell'ambito dell'inchiesta Grandi Evendi e Ciapi ad essere ancora sottoposto a una misura cautelare. Diversa la situazione di Gentile, che è libero da alcuni mesi e il suo avvocato ha insistito per rimettere in discussione l'ordinanza con cui il GIP di Palermo, Luigi Petrucci, decise per l'arresto. La Suprema Corte ha colto il ricorso annullando con invio la decisione del Riesame che aveva confermato il provvedimento. L'inchiesta scattata lo scorso anno, cominciata dall'Unione Europea, era sfociata con l'emissione di diverse ordinanze di custodia cautelare. Per l'accusa, 15 milioni di euro che aveva stanziato la regione siciliana per riavviare l'apprendistato, 1.500 disoccupati, ma solo 18 giovani hanno avuto un contratto. Tra il 2008 e il 2012 sarebbe finita nelle tasche di manager politici, attraverso viaggi, cene, regali e persino escort. Per l'accusa c'era un gran corruttore al centro di un vero e proprio sistema, ufficialmente solo un anonimo imprenditore nel cambio della pubblicità, Faustino Giacchetto. Era lui ad elargire regali e mazzette a politici e funzionari per canalizzare quanti più finanziamenti su un ente di formazione, il Ciapi, e per accaparrarsi più grossi bandi sulla comunicazione della regione Sicilia. Per l'accusa, 15 milioni di euro che aveva stanziato la regione Sicilia.